Sono convintissimo. Benissimo. Caterisano, in base alla sua esperienza di formatore, quali sono i bisogni oggi degli agenti per poter fare questi passi di cui stiamo parlando da questa mattina? Di che cosa c'è bisogno? Di che tipo di competenza? Non mi dica che c'è bisogno di formazione perché l'abbiamo capito. La ringrazio per avermi dato del formatore. In realtà sono prima di tutto un agente, un collega che ha fatto un'esperienza sui social network, sul social media marketing ormai da cinque anni, ancora prima, col web marketing e poi l'ho messa a frutto facendo questo corso. In realtà io nasco, sono tutt'ora un agente generale che si è dato da fare sui social network e ottenendo poi dei risultati. Io ho avuto la fortuna di incontrare quello che oggi è il più grosso esperto di social media marketing in Italia che è Andrea Albanese che mi ha proposto di fare questa attività di formazione insieme per i colleghi assicuratori avendo visto che comunque c'era questa necessità come diceva anche il collega Mirata. La questione vera è questa adesso non vorrete dire ancora coi numeri però veramente 27-28 milioni di italiani vanno tutti i giorni su internet sui social network è lì che stanno anche i nostri clienti quindi è lì che vanno intercettati. Io da anni lo faccio inizialmente con un po' di difficoltà piano piano solamente per esserci con degli strumenti che internet mette a disposizione gratuitamente come Google Plus Google My Business o come Facebook o anche come lo stesso LinkedIn che è veramente fondamentale secondo me per tutti i colleghi i colleghi agenti. Da lì inizio a fare le prime polizze le prime due, tre, quattro inizio a fare poi dopo sei mesi un piano ne fai un altro un altro ancora vengono fuori poi budget vengono fuori parte della nuova produzione ogni anno e allora dice sì ma allora funziona questa cosa sì funziona funziona solo per il fatto di esserci per essere visibili ricercabili e scelti chi non c'è sui social network oggi si perde una grossissima fetta credetemi perché 28 milioni di italiani che tutti i giorni sono su internet sono sui social sono anche i nostri clienti chi non c'è sbaglia già per il fatto quindi stesso di esserci si è visibili ricercati e scelti dopodiché da lì a fare iniziative commerciali e di marketing operativo da cui poi derivano le 20 quindi a me tocca fare il bastian contrario e non essere d'accordo con quello che è stato detto stamattina con i social si vende si vendono le polizze non si vendono magari direttamente come intendiamo la vendita intesa come vendita diretta vendita a distanza che poi è normata anche dall'Ivas eccetera ma si fa certamente engagement certamente si fa branding certamente si fa customer care certamente si fa lead generation lead generation questa parola inglese io non amo molto gli inglesismi ma si dicevano richieste qualificate di informazioni qualificate con privacy qualificate con dati di contatto tale per cui poi si va a ricontattare e poi si va a noi dai clienti vengono loro da noi piuttosto che si fa anche la vendita a distanza perché si può anche fare quella tramite i bonifici tramite l'invio poi dei pdf eccetera eccetera e si fanno le vendite quindi signori quello che è la mia esperienza e poi ripeto ho portato a frutto facendo questo corso che sta andando anche abbastanza bene si chiama assicurazione social media marketing e lo potete trovare su su linkedin dove abbiamo una forte presenza ovviamente che è lo strumento principe quella che è la mia esperienza ecco i social si può certamente intercettare la clientela i nostri clienti sono lì anche i nostri cosiddetti prospect che sono i clienti potenziali è un modo certo probabilmente non il primario in questo momento ma è lì che andiamo ad intercettare i nostri clienti anche solo per il fatto di esserci grazie Ode Penco